esistono periodi della nostra vita dove nulla va come speriamo il lavoro finisce va male lo studio le relazioni i marimoni i rapporti con i figli tutto è difficile pieno di problemi e sembra che tutto quello che facciamo iniziamo non riesce ad andare avanti il nastro della nostra vita è pieno di nodi piccoli e grandi ma non dobbiamo disperare la vergine maria li scioglierà tutti chiedendo perdono per i nostri peccati iniziamo questa preghiera e recitiamola almeno per tre giorni o nove come una novena o almeno trenta giorni come un grande fioretto se il nodo è tanto grande ad ogni nodo sciolto perché la vergine maria li scioglierà uno ad uno iniziamola di nuovo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen santa maria piena della presenza di dio nostro signore durante i giorni della tua vita accettasti con tanta umiltà la volontà del padre celeste e il maligno non fu capace di impigliarti con la sua confusione già con gesù intercedesti per le difficoltà di ogni tuo figlio con tanta semplicità e pazienza mi hai dato l'esempio di come sciogliere la matassa della mia vita poi rimani per sempre come marre mia rimetti tutto in ordine e rendi più chiari i legami che mi legano al signore santa maria madre di dio e madre mia tu che con cuore materno sciogli i nodi che ostacolano la mia vita e il mio cammino ti prego liberami dalla schiavitù e dalla confusione con i quali mi molesta il nemico per la tua grazia per la tua intercessione con il tuo esempio liberami da tutti i mali o signora mia e sciogli i nodi che mi impediscono di avvicinarmi a dio affinché libero da ogni inganno io cerchi il padre celeste in tutte le cose che faccio e che dico e io possa presentare la mia vita e le mie decisioni servendolo con amore attraverso chi mi sta accanto santissima vergine tu che sei colei che sciogli i nodi ti prego in questo giorno per questa intenzione speciale che tante inquietudine ha portato nella mia vita racconta il tuo problema e la tua necessità la madonna che sciogli i nodi e chiedile il suo miracoloso aiuto affinché il tuo nodo sia sciolto presto santissima vergine maria sciogli i nodi delle mie paure e timori che mi bloccano e mi impediscono di vivere serenamente affinché io sia finalmente libero da insicurezza e timidezza e esolamento e fa che la mia vita abbia la serenità e la felicità che tanto desidero vergine di pace sciogli i nodi dell'ira dell'aggressività e della violenza aiutami ad avere il controllo delle mie emozioni e frustrazioni e correggimi con amore per essere una persona sensata e riflessiva dammi la pace e la tranquillità di cui ho bisogno cara madre concedimi la tua compagnia in ogni momento e il tuo amore rimanga in me in tutto quello che realizzerò in questo giorno aiutami inoltre a perdonare tutte le offese che ricevo ogni giorno anche dalle persone della mia famiglia e perdonami tutto il male e le cattive azioni che io consapevolmente o inconsapevolmente ho commesso Immacolata Vergine Maria che sciogli i nodi intercedi per me davanti al Signore affinché benedica la mia vita e il mio lavoro di ogni giorno e renda il mio cuore buono per aiutare chi si trova nel bisogno dolce cuore di Maria dolce cuore di Maria sciogli i nodi delle infermità preoccupazioni e angustie che potrebbero presentarsi allontana pericoli incidenti sana il mio corpo e la mia mente perché godendo di buona salute io posso salutarti con allegria Vergine amorosa sciogli in me tutti i sentimenti cattivi disamore, indifferenza e ingiustizia e io inizio a donare amore e allegria a chiunque tu vorrai mettere sulla mia strada è per questo che ricorro a te Maria, madre mia liberami e togli i nodi che mi impediscono di essere felice di avvicinarmi a te e a tuo figlio la mia preghiera trasformi il mio cuore e lo renda come tu lo vuoi Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Salve Regina, madre di misericordia vita, dolcezza, speranza nostra salve A te ricorriamo esuli figli di Eva a te sospiriamo gemente e piangenti in questa valle di lacrime Or su dunque, avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria Maria, che scioglie i nodi prega per me Grazie a tutti